E' Antonio Papagni il candidato per il Movimento 5 Stelle che concorrerà alla carica di primo cittadino nella città di Corato. A decretarlo sono state le urne delle primarie celebratesi nelle giornate di sabato e di domenica alle quali hanno partecipato 399 coratini. Nel corso dello svolgimento delle consultazioni ha fatto visita al seggio coratino il parlamentare del Movimento 5 Stelle Francesco Cariello. L'ogni forma che praticamente porti il cittadino ad esprimere nella massima espressione la volontà di voler dare la preferenza ad una persona è costituzionale perché ricordiamoci che la Corte Costituzionale ha stabilito nella mancanza delle preferenze proprio la lacuna della precedente legge elettorale. Quindi se voi date questa possibilità ai cittadini siete nel pieno della Costituzione. La preferenza sancisce quello che è il portavoce sindaco del Movimento 5 Stelle ma alle spalle c'è un gruppo di lavoro che non cambierà assolutamente atteggiamento e soprattutto impegno a prescindere da quello che verrà poi chiaramente confermato dagli elettori. Papagni stacca di una manciata di voti i suoi diretti concorrenti Michele Tedone e il già candidato sindaco Domenico Ungari. Dei 399 votanti 152 hanno affidato la loro preferenza al neocandidato sindaco Antonio Papagni mentre i voti conseguiti da Domenico Ungari e Michele Tedone sono stati rispettivamente 137 e 109. Una sola la scheda bianca. Massima soddisfazione per il risultato ottenuto collettivamente. Siamo andati ben oltre le nostre aspettative perché abbiamo preso praticamente 400 voti e quindi per noi questa è grande soddisfazione. Inoltre sono molto contento del fatto che alla fine c'è stata poca differenza tra i tre candidati e questo denota il fatto che è arrivato il messaggio anche ai cittadini, cioè il fatto che noi tre siamo la stessa cosa, portiamo avanti gli stessi ideali, sosteniamo lo stesso progetto e il gruppo è coeso intorno a tutti quanti. Da domani c'è lavoro da fare per tutti. Io sono solo il portavoce e se non c'è il gruppo dietro non andiamo da nessuna parte. C'è da completare il programma elettorale e c'è da portare avanti le iniziative per affrontare questa campagna elettorale. Per noi è importante portare elementi che possano migliorare la qualità della vita a Corato. Quello del benessere è per noi un obiettivo principale e nel benessere rientrano tutto ciò che ha a che fare con la fruibilità della città. Quindi partiamo dalle strade per passare al verde pubblico, per passare a un miglioramento dei servizi a livello comunale e però non possiamo dimenticare che viviamo in una fase di grave crisi economica. I cittadini ci hanno sempre segnalato questo e il tema del lavoro è uno dei temi che i cittadini sentono più vicini.